Io sono abbastanza libita dalle polemiche degli ultimi giorni, voglio dire, polemiche in una giunta che vuole amministrare il comune di Udine, che è un comune così importante, come se fosse la padrona di quello che deve accadere in quella città. Un'amministrazione che non è soltanto che non va d'accordo e non riesce ad essere maggioranza, proprio nel senso semplice del termine, ma proprio c'è un distacco totale da quella che è la società. La critica che faccio a Felice Detoni, alla sua maggioranza del Partito Democratico, è innanzitutto non avere coraggio. È finita la politica dell'ammiccamento al cittadino per ottenere, diciamo, consenso, un consenso fine a se stesso. E sposo assolutamente in pieno l'idea di Ivano Mercol, che aveva un progetto e lo sta mettendo in atto. Preferisco persone che abbiano un progetto piuttosto che persone che ammicchino, ma senza avere nessun progetto.